Buongiorno! Gruppo Convocazione Cantautorale, insieme dal 2007 gli Abettito hanno fatto anche loro molta gavetta come cover band, da De Andrea a Rino Gaetano a Pierangelo Bertoli e poi tutti gli altri cantautori. Con un basso repertorio tra cover e canzoni originali si fanno le ossa con un bel numero di concerti in provincia e qualche esperienza all'estero. Formazione acustica con strumenti a corda, flauto traverso e percussioni. Anche il loro disco è uscito a fine 2010, autoprodotto con il titolo Bagaglio a mano, contiene 12 brani di musica d'autore. Alla corte di sua maestà felicità è il brano del video ufficiale con cui si presentano.